ciao a tutti io sono frico e bentornati sul mio canale per questo nuovo episodio su bloodstain ritual of the night allora nello scorso episodio siamo riusciti a battere il milionario siamo andati a a craftare un'arma molto più forte della zaga zutto e ora dobbiamo trovare di nuovo l'ingresso per andare nel portale alla giardini ci siamo organizzati un po meglio con cibo e tutto quindi dovremmo essere in grado di no sbagliato assolutamente posto dove andare dovremmo essere in grado di gestire meglio la situazione mettiamo un indicatore perché mi sto fisso perdendo e ora si torna a scendere allora frammenti vabbè fa male però ciò ma del re leone va bene e basta fericolosissimo cazzo veramente sbagliata la zona dove andare stronzo del cazzo scappiamo velocissimi non volevo usare nessuna cura non volevo usare nessuna la zona Allora la sparo Ci siamo Fate da bravi 1148 di vita Non male Perché no ci facciamo un altro livello Siamo al 40 No Dovrei farmi La classe Sharur 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 Scendiamo di qua ora Allora Tantino eccessivo mi è sembrato bene cosa mi ha dato raggio annullante ma c'è una scelta ok non puoi annullare te stesso no no ho detto inventario allora usiamo il ramen la zuppa il biscotto la torta la cheesecake la nostra fortuna è aumentata a 25 quindi dovrebbe droppare roba a scoppio e anche il critico teoricamente dovrebbe aumentare no credo non so se faccia parte della fortuna in realtà aia range pazzesco zona di diavolo appostissima per dare fastidio bene siamo arrivati di nuovo nel ghiaccio ora un po più preparati di prima dove sei ah è lì qua cosa c'è ok una missione che cosa c'è però bello duro è giallo rosso qua cosa c'è mi serve un salvataggio pericolosissimo chiave del cavallo da guerra quindi abbiamo trovato un'altra chiave non male qua cosa c'è che cosa c'è che cosa c'è bello duro bello duro alla faccia fald ciu lanci una sfera concentrata in energia oscura nella direzione scelta che cosa c'è che cosa c'è che cosa c'è va bene bello duro bello duro Questa è la collega Basta FRAGRA! 28 che schifo salvataggio si 97.7 bisognerò vedere cosa c'è qua vediamo se si collegano però magari siamo fortunati qua c'è una boss fight bene o male dipende alessandrite qua si apre questo vero? si vedeva l'energia massima più perfetto quando le rendono palesi così mi piace che schifo vabbè noi ci invertiamo e andiamo via ok all'io sono terrificanti questi cosi in realtà posso andare lì dietro e non prendere danno oppure andarli addosso e prendere danno comunque perché sono un idiota anche quello si può fare 500 di ore non fate casa a me ok vediamo cosa dice questo diario ok zanchezzuto colpa mezza luna perfetto ecco armatura di cristallo difesa 30 spinge le tenebre normale ora andiamo a vedere la chiave del cavallo cosa ci fa dove si trova qua anche se dovrei andare prima a salvare quindi andiamo di qua siamo al 98.10 per cento normale distrutti cottone cottone aia mi tolto uno non si è permesso vediamo un pochino cosa ci aspetta qua stanza del cavallo da guerra ciao 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 guarda lì indietro lo sto strancio Cosa ha lasciato? Questo che ho marchiato Ahi ho E' oh! E' già! E' da bravo! Vieni qua, va! Ouch! No, scambia colpi, in effetti non va bene! Ok, l'abbiamo uccisa! No! Cosa ci ha dato? Croce rovinosa, lanci una lama rotante che torna indietro come un boomerang. Non male. Eeeh, andiamo a battere anche questo stronzo, dato che ci siamo. Perchè no? Usiamo una stele. Equipaggiamento, inventario. Allora, stele. Tanto ne abbiamo. Anello del potere d'oro. Lama bandita. Pedilio. Vediamo, equipaggiamenti anello. Del potere d'oro. Che aumenta la potenza dell'attacco in proporzione alla ricchezza. Beh, beh, beh. Non male. Posso... Con la spada invece? Equipaggiamenti. Lama bandita. 53. Una spada con capacità nascoste. La proviamo. Al massimo ci riprendiamo quella di ghiaccio. Ma il 41. 98.20%. Con capacità nascoste, eh? Con capacità nascoste, eh? Con capacità nascoste, eh? Allora, salvare ho salvato. Sono ancora belli forti questi. Facciamo attenzione. infatti vabbè lì 3 shot in realtà devo fare solo che insieme al fuoco mi ha fatto la finta ora forse avrei dovuto comprare di nuovo pozioni vabbè abbiamo 13 pizze in realtà ci bastano per sempre stanza del falegname ciao falegname c'è un bastardo dove sono le capacità nascosta cosa stai facendo allora calmatevi perfetto abbiamo fatto anche il livello aia oh è basta tu che senso tecnica tecnica cosa cosa ho fatto archivi tecniche curto doppio non male mori basta perfetto diciamo diciamo Oh, no! Corri! 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 No! No! Il shuriken ha 37 HP! No! Ciao! Berilio! Non hai altre missioni? Ho completato tutte le missioni. Non male. No. Vi fermare Dominic, lo sappiamo. 98.3 Va bene ragazzi, io vorrei di chiudere qua questo episodio. Noi ci vediamo al prossimo, sempre qua, sul mio canale. Ciao a tutti! Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e lasciate un mi piace. Noi ci vediamo sempre qui, sul mio canale, con il prossimo video. Ciao a tutti! Grazie a tutti.